Senti facciamo un'intervista alternativa mentre fai stretching dopo una partita sicuramente difficile ma con una soddisfazione gigantesca. Posso dire solo bravi ragazzi davvero è stata una partita molto difficile ma siamo molto contenti per questo primo passo che abbiamo fatto era alla fine pallavolo cambia sempre cambiano centimetri e cambia un punto abbiamo vinto 26 24 31 29 26 24 e alla fine un check che ho visto adesso a televisione che si vede che palla non è ancora caduta quindi adesso è difficile dire per loro è normale anche noi abbiamo protestato se succedeva questo però guarda siamo molto contenti ma non è successo niente dobbiamo pensare per un buon riposo perché sarà molto dura sicuro mercoledì ma già adesso voglio come si dice dire a tutti i tifosi a mercoledì alle 20 e 30 palla olimpia vogliamo vincere ma dobbiamo serve vostro come si dice sostegno sostegno quindi venite al palazzetto che sicuro sarà un spettacolo all'inizio eravate un po' contratti c'è stata un po' di tensione iniziale dove avevate un po' di non dico paura però insomma un po' di 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 ansia ora siamo molto giovani siamo pochi che hanno già giocato il playoff quindi alla fine non era facile entrare in una partita così anche un palazzetto di campioni d'italia questo è importante dire però quando abbiamo finito con questo nervosismo possiamo iniziare abbiamo iniziato a giocare bene abbiamo fatto qualcosa bene ma soprattutto al fine finisce come si dice quando finisce il set al fine set questo è molto importante che dimostra una squadra che non mola mai eravamo 20 a 15 sotto siamo riusciti a vincere il secondo set che era molto importante quindi dobbiamo pensare per questo questi due giorni un po' di riposo un po' di lavoro che sicuro serve pensiamo mercoledì devo lasciare andare perché hai il saluto però l'ultima cosa al volo me la devi dire quanto ti stai divertendo tantissimo tantissimo sono solo molto contento che è arrivato anche mio papà a vedere questa partita che lui diceva che questa vale doppia e buona festa del papà buona festa del papà li voglio tanto tanto bene sono molto contento che è così e quindi andiamo andiamo avanti forza verona